Buongiorno, sono Giuseppe Masini di Fedefarm a Modena, sono consigliere, sono qui alla prevenzione di scommetti che smetti molto volentieri perché Fedefarm a Modena è promotrice del progetto di scommetti che smetti già da diversi anni. Questo anche per rimarcare il ruolo della farmacia che è distribuita in modo capillare sul territorio e quindi la sinergia con l'AS è fondamentale perché il farmacista è aperto tutto il giorno, nella sua farmacia, la farmacia è aperta tutto il giorno e è distribuita anche nelle zone più impervie in Appennino e quindi è facilmente accessibile da tutti e questo è un ruolo che deve essere riconosciuto e quindi noi siamo qui molto volentieri a incentivare questi messaggi salutistici.